15 anni sono un periodo molto lungo, un periodo molto intenso, con tantissime emozioni, emozioni bellissime, emozioni anche meno belle, però insomma veramente un periodo molto bello, fatto di tanta emozione, tanta passione, tanto impegno, tanto lavoro, che ha portato dei risultati buoni, poi si può sempre migliorare evidentemente, però certamente se pensiamo da dove siamo partiti, dove c'erano soltanto macerie, mancavano anche i palloni, oggi abbiamo invece un toro che nelle ultime otto stagioni è stato cinque volte dalla parte sinistra, due volte al settimo posto, una brutta stagione passata, però insomma siamo qui pronti a ricominciare con un nuovo mister, un nuovo direttore sportivo e con nuovi innesti per dare una fisionomia anche diversa alla squadra. Direi che con il Novara chiaramente la squadra c'erano un po' tutti i titolari, quindi era una squadra più completa, pur mancando Verdi e qualcun altro, però ho visto già delle cose interessanti, ho visto anche oggi, diciamo nel primo tempo in particolare, ho visto quel pressing, quella voglia di recuperare palla velocemente, quel giocare palla a terra che sicuramente mi ha fatto molto piacere ed è un po' l'idea di calcio che ha Giampaolo. Poi chiaramente secondo tempo c'erano giocatori molto giovani, però hanno fatto anche loro, hanno dato un contributo. Poi si vede comunque che lo spirito è buono, che c'è voglia di far bene, che c'è voglia di imparare, di apprendere questi concetti nuovi e quindi questo è un fatto positivo. Direi che la strada è lunga ancora, ma certamente il percorso è quello giusto e quindi insomma avanti tutta. Beh sicuramente sì, insomma avere Ne7 è una bellissima cosa. Chiaro oggi sarebbe meglio averli con noi perché il tempo è poco e quindi sarebbe un modo per lavorare con continuità, però insomma comunque è bene, insomma avere tanti giocatori nazionali vuol dire che abbiamo giocatori di qualità, giocatori di livello e quindi insomma fa comunque piacere. Ultima domanda Presidente sul calendario perché questa mattina abbiamo scoperto quali sono gli abbinamenti. È chiaro che tanto bisognerà affrontarle tutte quante, però i primi due appuntamenti sono piuttosto intensi, soprattutto forse il secondo perché l'Atalanta lascia dei ricordi non proprio positivi? Beh sicuramente sì, sono due partite importanti, a Firenze tra l'altro non si è mai vinto in questi anni, credo che non vinciamo da 45 anni addirittura, un numero di anni veramente incredibile addirittura, risaliamo al toro forte dei pulici, pulici Graziani Zaccarelli, insomma quindi non si vinceva neanche allora, però insomma noi adesso dobbiamo, ovviamente come dicevi, dobbiamo affrontarle tutte, certo questa prima è impegnativa con la Fiorentina, poi la seconda ha maggior ragione con l'Atalanta, ma poi tutte le altre, non è che il Cagliari sia da meno o il Sassuolo o altre ancora, quindi insomma direi che bene così si parte con impegni importanti e dobbiamo essere pronti per affrontarli subito bene. Grazie a tutti!